Buca sempre dentro il radiatore, lo solleva dal suo corpo, e la ventola poi, che è attaccata al motore, mi brinca il radiatore, c'è capitato di bucarne più di uno. In alcune macchine abbiamo messo una paratia, una lamiera che praticamente evita che si puiglia sotto il radiatore la rova. Grazie a tutti.